Situazione paradossale a Scafa dove nei pressi del Lavino gli agricoltori restano senza acqua per irrigare a causa dei continui guasti alle condutture. Il vice sindaco si appella al neocommissario del Consorzio di Bonifica Centro. Una situazione diventata insostenibile per diversi agricoltori e allevatori della zona di Scafa che ogni anno nel periodo estivo restano senza acqua per giorni in una zona che dell'acqua con Lavino fa la sua prerogativa. Solo oggi dopo più di 14 giorni è tornata l'acqua per irrigare. Il guasto è stato riparato dal Consorzio di Bonifica ma i proprietari terrieri non si fidano perché tanto dicono accadrà ancora. La mia riflessione non è una critica, voglio fare una riflessione all'ente Consorzio di Bonifica. Noi vorremmo, io perlomeno penso tutti, vorremmo sapere, si evidenzia sempre di più il fatto che ogni anno il servizio va sempre peggiorando e non migliorando, nonostante le bollette aumentino di costi. Questo servizio ha a monte una progettazione di manutenzione? Cioè i responsabili, gli ingegneri, durante il periodo invernale fanno questa progettazione? Non mi sembra. Tiziano, ma è vero che ci sono alcuni che addirittura sono andati a prendere loro stessi l'acqua dal Lavino per irrigare i campi? Purtroppo sì, siamo tornati negli anni molto molto indietro, ma da sottolineare il fatto che chi ha potuto avere la possibilità di andare a prelevare acqua nel fiume, nel Lavino che abbiamo qui sotto, ma chi non ha potuto, purtroppo l'ho visto, le piante si sono quasi seccate, se non del tutto. Vicino ai suoi concittadini il vice sindaco di Scafa, Giordano Di Fiore. Non esiste una manutenzione ordinaria, quindi adesso è stato nominato il nuovo commissario. Io spero che il commissario ci chieda subito questo incontro, che io ho chiesto, quindi approvi questo incontro, per far sì che venga messo in campo un progetto di manutenzione che già nel 2010 io ho proposto con l'allora presidente Roberto Roberti, perché noi abbiamo l'acqua, come lei ha detto, però non abbiamo adesso l'acqua, perché manca una manutenzione ordinaria. Anzi, voglio anche ricordare alcune condotte rotte nel momento in cui stava passando lo scuola bus, con dottura principale, un tubo di un metro di diametro e chiedo, in questo incontro e per conto di tutta anche la cittadinanza, di rivedere le quote economiche che già sono arrivate le bollette. Maurizio il Gigante, lei è particolarmente arrabbiato, perché? Per quale motivo noi dobbiamo pagare queste bollette quando loro non ci giustiscono le ricalzioni? È sempre la stessa cosa. Allora perché non ci risarciscono dei danni? Allora, all'inizio anno lo dicono, guardi, noi non vi possiamo dare la manutenzione, allora loro prendono lo stipendio di stagione. Io penso che le 3-4 mila euro sono più, no? Allora perché dobbiamo pagare queste persone che a noi non ci giustiscono le ricalzioni?